ciao a tutti benvenuti e bentornati sul canale e benvenuti in un super epic fail ragazzi questo lo so già che è un epic fail perché allora diciamo che ero presa diciamo in un momento di creatività e ho voluto prendere la resina vecchia quella proprio di due o tre anni fa che avevo perché lo ritrovate ho detto ma sì per lasciarla ancora lì la voglio provare a usare e quindi ho sperimentato un po con l'alcol ink glitter pigmenti foil eccetera però purtroppo gli stampi sono molto 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 sottili e ha fatto un macello guardate quanto ha strabordato qua ora se sono poi decenti si possono limare e diciamo mettere a posto se invece sono da buttare ahimè mi sa che li butterò e basta andiamo subito a vederli allora parto da quelli secondo me meno epic fail quindi meno brutti allora qua abbiamo se mette a fuoco una luna che ho voluto fare praticamente sul bianco grigino e azzurrina e con aggiunta di glitter vedete come si chiamano argentati scusate se ho il fiatone ma ho il fiatone oggi vediamo com'è venuta oh che particolare beh sempre un po così allora allora metti a fuoco allora direi che è venuta particolare e non mi dispiace per niente allora qua l'alcol ink è andato molto bene nel senso che si è proprio messo nel pigmento e qua invece la resina era bianca come vedete e io gli ho messo del colore un po così acrilico e ha fatto questa bellissima parte l'unica cosa un pochino brutta della resina vecchia è che un pochino molle non tantissimo ma un pochino sì peccato perché poteva essere carina ma non mi piace comunque dopo vi farò la panoramica come sempre poi di questo io spero sia venuto carino ho voluto fare un ciondolo vintage praticamente ho messo un adesivo di una carta scrapbooking un po vintage così e sopra resina normalissima vediamo come è venuto e speriamo in bene sì e no nel senso che ok la carta era così sotto non è perfetta però vedete qua si è un po abbassata però non è male questo effetto magari si potrebbe dipingere un po da questa parte e potrebbe essere un'idea non male comunque carina poi siccome ho questo stampo coniglietto che è molto piccolino l'ho fatto super glitterato semplice sicuramente bisognerà limarlo perché è talmente fine che purtroppo bisogna limarlo vedete però è venuto molto carino il colore mi fa impazzire bellissimo è un tiffany con questi glitter a righe diciamo perché ho proprio messo in modo che facesse tipo delle righe e mi piace tantissimo l'unica cosa che va limato molto bene perché vedete dietro è tutto unito però è carino ora questo secondo me è molto carino e ho delle aspettative altissime perché l'ho fatto proprio un ciondolo per la primavera in pratica gli ho messo tutti i vari glitter che ho a rosa fiorellini olografici eccetera e dietro il colore rosa vediamo un po secondo me è venuto bene che bello sì mi piace un sacco questo ecco questo mi piace tantissimo ed è bellissimo perfetto i glitter si vedono tutti quelli che ho messo guardatelo è bellissimo cioè gli ho messo questa parte di qua rosa i fiorellini e infine quelli un po lografici è stupendo questo anche dietro rimane così glitterato c'è solo da limare il bordo perché non è perfetto però top veramente bellissimo il mio preferito finora poi a questo ragazzi questo è un epic fail proprio da buttare allora in pratica avevo messo anche qua un adesivo vintage e in più i foil dietro che però non sono stati giù per niente e quindi è successo un casino guardate che brutto peccato perché la carta era molto bella con le note musicali volevo fare un po note musicali e un po appunto questo dorato però vedete cioè ci sono le montagne qua dietro questo è proprio da buttare peccato perché era carino come idea però non ci sta non c'entra non va bene non 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 no via poi passiamo a questo coniglio bello grande aiuto ho paura che ho messo troppi glitter questo è uno stampo che non ho mai usato anche se ce l'ho da un po vediamo come è venuto questo coniglietto rosa oh che cute sì mi piace allora questo è un coniglietto rosa con vari glitter vedete allora dal video sembra un pochino più scuro in realtà è abbastanza chiaro ha questa faccina un po arrabbiata se vogliamo e io penso che con un pennarello bianco gli farò queste rifiniture bianche e secondo me sta molto molto bene e niente carino devo sempre rifinirlo però non sono cioè non male secondo me a parte vabbè deve piacere questo effetto un po vedo non vedo dei glitter perché qua ce ne tanti qua ce ne meno però l'ho fatto apposta cioè non è che è venuto male l'ho proprio messo io così quindi secondo me ci sta poi a questo qua io spero che sia venuta bella perché non so mi guardate che bella da così è stupenda è una stella chiave stella diciamo boh sembrerebbe bellina anche di là vediamo un po vedia aiuto aspettate che non esce non ti rompere o non fare casini vediamo no di là di lei è un po strana bellina la parte sotto qua non mi piace tanto qua sia anche un po macchiata bruttissima non è deve piacere come colore e questo verde mi piace ma non con questi altri colori anche qua ho usato il praticamente ho usato il l'acrilco dentro così con uno stecchino e boh dietro è molto più bella sinceramente mi sa che se la terrò la terrò da dietro e farò tipo un portachiave perché è più carina poi passiamo a questi questi sono molto semplici sono anche un po di resina di scarto niente di che allora cuoricino normale ha dei glitter blu ma penso siano solo appiccicati così carino normalissimo cuoricetto questo anche normale perché avevo avanzato un po di resina loro detto boh buttiamo da dentro quello che viene viene questo stampo è molto carino perché è piccolissimo quindi per fare per esempio gli orecchini è perfetto quasi è macchiato come mai bella domanda boh la foglia questi sono proprio esperimenti così cioè oddio questo cosa gli è successo gli ho messo sotto un altro colore che brutto la luna che mi sembrava carina non si sono mischiati bene peccato perché la luna è sempre carina pensavo venisse più glitterata invece un po così e adesso ragazzi andiamo alla parte che mi farà morire da ridere perché vediamo come sono venuti mamma mia che casino ragazzi questo ho sperimentato ho messo dell'acrilico ho messo di glitter ho messo gli alcolink ho fatto un po di tutto allora vabbè questo è un normalissimo pezzettino giallo probabilmente avevo avanzato resina ho detto buttiamolo dentro però vedete che essendo tanto fine e la resina forse non benissimo bellissima questo è bello questo bello guardate la trasparenza è bello mi piace e non capisco però perché questa parte rimane sempre un po sfasata nel senso un po un po non perfetta però mi piace tantissimo come è venuto è veramente carino cioè ha una bellissima trasparenza vediamo questo oh mio dio che colore uscito beh vi dirò che non è proprio malvagio cioè non è proprio male 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 qua una sfumatura di rosa qua una sfumatura tra il rosa e il arancione e sopra viola e poi ha questi glitter così un po giusto per gradire però non è bruttissimo si potrebbe ancora recuperare ovviamente mettendola a posto con la limatura eccetera questo prevedo che sia solo così in realtà è verde sembra nero la stella anche resina di scarto giusto per non diciamo buttarla quindi una stellina normale questo non lo so come qua vabbè è venuto tutto insieme allora vabbè questo è brutto perché anche qua era resina di scarto questo addirittura ce n'è un pezzo in più però lui non è bruttissimo secondo me non è male queste cose qua che sembrano rigate in realtà è liscissimo vedete che sembrano righe probabilmente mente le ho fatte con lo stuzzicadente quando andavo a mischiare magari si è un po toccato però sono interne non sono esterne perché fuori è davvero davvero liscio qua oh guarda viene tutto via così carino un bellissimo blu soprattutto con il flash che sto utilizzando queste me ne sono innamorate bellissimo questo è un colore stupendo e viola sfumato a blu sfumato a rosa fucsia bellissimo sembra una galassia non l'avrei detto da dietro perché sembrava argento invece è veramente bello poi vabbè questo prevedo sì è solo così niente di che oddio qua è tutt'uno aiuto aiuto qua si sono incastrati tutti no vabbè wow questo mi piace un sacco allora vabbè il cuore sarà da buttare e forse anche questo non lo so vediamo il quadrato qua il rombo mi piace moltissimo bellissimo bellissimo colore ma devo ovviamente ritagliarlo ed è fatto così anche questo cuore peccato che abbia preso un po troppa resina e quest'ultimo anche insomma un po così è particolare non è male allora quello che ho notato è che con questa resina qua che se non sbaglio quella della resina pro l'alcolink rende molto meglio rispetto all'altra questo identico pensavo fosse fuori perché vengono meglio queste sfumature vedete tipo proprio onde del mare ecco invece con l'altra si mischiano meno quindi ok dovrò ricomprare quella se poi dovrò fare altre creazioni bene ragazzi passa la panoramica così mi dite poi quelle che vi piacciono di più e di meno eccetera e poi ci salutiamo ecco qui allora sto un po lontano se no avendo lo sfondo giallo mi fa casini con il bilanciamento della luce comunque questi sono i ciondoli fatti meglio quindi coniglio e stellina vari ciondoli e i più belli questi ragazzi questi sono veramente belli ecco che cambia la luce ma vabbè veramente veramente belli e anche quest'ultimo qua sotto bene il video finisce qua spero che vi sia piaciuto noi ci vediamo al prossimo video